Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Oggi siamo a Silvano Pietra e tra poco tre persone fermate in maniera casuale per le vie del paese ci racconteranno pregi e difetti proprio di Silvano Pietra. Andiamo a sentire. Un pregio è che sicuramente è una comunità molto legata, quindi diciamo che le persone, ma penso come un po' in tutti i paesi... Non tutti, perché c'è chi si odia. Sì, diciamo che c'è comunque molto calore tra gli abitanti. Un difetto non lo so, non penso che ne abbia, non me ne sono mai andata. Ci sono venuta a abitare vent'anni fa, sono ancora qua. Quindi questa costanza, questo affetto, questo amore non ti fanno trovare nemmeno un difetto di questo paese? No, forse magari la nebbia, in inverno, la zona un po' comunque nebbiosa, però... Ma questa vale un po' per tutti noi di questa zona. Esatto. Il pregio è che è un paese molto tranquillo, molto carino anche, disposto molto bene, ha molte... Per esempio la chiesa, ha molti siti antichi che si possono anche... che non si conoscono, eh? Che si potrebbero visitare un domani, eccetera. È una casa del 500. Quindi è un invito a valorizzare anche determinati edifici storici che non vengono attualmente valorizzati. Certo, io penso che il sindaco abbia in programma una valorizzazione di questi siti archeologici, che sono molto belli. E poi un difetto, cosa si può dire, che è un po' piccolino, diciamo, come pregio e come difetto, c'è sempre questo, no? Che essendo piccolo non abbiamo tutte le infrastrutture che offre una città grande, ma insomma tutto sommato si sta bene, insomma non possiamo lamentarci. Secondo me un pregio potrebbe essere un paese piccolo, ci conosciamo tutti, tutti sanno di tutto. Quindi non ti dà fastidio questa cosa, che tutti sappiano di tutto e di tutti. A me no, sinceramente no. Perché spesso e volentieri riesci ad avere un rapporto diverso con le persone che conosci di più, che sono del tuo paese e di conseguenza riesci a approfondire un attimo, insomma... Ci dà un senso di comunità. Spesso e volentieri conosci dei personaggi che vale la pena conoscere, insomma. Difetto? Difetto... Non lo so, difetto dovrei pensarci un attimo. Non saprei dire, il difetto... Qualcosa che magari dopo un po' di tempo che non sei a casa, non sei qui in paese, torni e dici ma guarda te devo tornare lì dove c'è quella cosa. Secondo me succede il contrario. Se prendi, vai via e torni dopo, vabbè, poco tempo no, ma dopo tanto tempo, se hai sempre vissuto in quel paese, dici, caspita, l'ho sempre odiato magari. Però adesso che sono tornato e rivedo le stesse identiche cose che ho lasciato dopo anni, magari ti rendi conto del lato positivo, non solo del lato negativo. C'è qualcosa da sistemare, per esempio, oppure non è tutto a posto? Non in questo paese, in tutta l'Italia c'è qualcosa da sistemare, è quello il problema. Mi sembra giusto. Grazie. Prego.